Ciao a tutti! La prima parte della creazione dell'angelo sarà quello di realizzare la testa utilizzando una sfera natalizia piccolina della carta da forno e della taglietta per i cesti, un elastico, della colla e utilizzando un ferro alla temperatura lana realizzeremo la testolina dell'angelo. La prima parte della creazione dell'angelo è stata costruita la testolina dell'angelo. In questo modo qui ho realizzato la parrucca dell'angelo. La prima parte della creazione dell'angelo è stata costruita la testolina dell'angelo. Tempo 1-2 ore e la colla sarà asciutta, quindi procedere al taglio dei capelli. La prima parte della creazione dell'angelo. In questa fase qui sto realizzando il corpo dell'angelo. Tramite un coltello rovente cercherò di tagliare la parte superiore della bottiglietta. Con una lama tagliare la parte inferiore della bottiglietta. rifinire il taglio ed infine lisciare con una limetta. Procurare o realizzare un sacchettino in tela più o meno trasparente e fissare la testa dell'angelo. Procurare anche le righe. Oggi guardate le righe. Pagate la parte inferiore. Illuminate l'angelo. iali. Puoi regalare il tagliare il tagliare. Puoi semplice. Puoi semplice sulla torta di destra! Puoi semplice. Pagate la parte inferiore. Grazie a tutti. Ho realizzato le ali dell'angelo con 10 dischetti di ovatta e un cartoncino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di colla e fissare le ali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto, tantissimo cioccolato e il mio regalo è pronto. Spero questa idea regalo vi sia piaciuta. Ciao, a presto.